Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video con il consueto appuntamento della Nala Collection in questa uscita, che siamo all'uscita 24, che troverete in edicola il 9 giugno all'interno troverete uno smalto color carne e questi fiocchetti di 5 colori diversi due pezzi per uno all'interno come sempre ho fatto due tutorial uno fotografico e l'altro fotografico e video dove in quello fotografico ho messo il fiocchetto in un modo un po' particolare abbellendolo un attimino invece in quello video che vedrete comunque nei social annessi di Youtube e Facebook ho fatto una cosa un po' più particolare, molto delicata anche se molto accentrica, anche perché questi fiocchetti comunque non si notano poco questi fiocchetti possono essere riutilizzati perché se voi li staccate con cura li pulite bene delicatamente e possono essere anche utilizzati più volte spero tanto che questo video come sempre vi faccia piacere fatemi sapere il tutto e un grosso bacio ciao